Perché nei bar e nei ristoranti c'è sempre così tanto rumore? Perché quando una persona decide di acquisire un locale pubblico non pensa al modo in cui la gente comunicherà una volta che va a visitare quel posto, sia un bar appunto o un ristorante. I bar soprattutto hanno un'acustica pessima, spesso soprattutto nelle città d'arte, ma diciamo più in generale in Italia un po' dappertutto, i bar vengono ospitati in luoghi che hanno i soffitti molto alti, a volte anche con i soffitti a volta e questo non fa altro che se nelle chiese va bene perché così si sente il riverbero, il rimbombo e tutto quanto, nel bar diventa una cacofonia insopportabile. Io ricordo che un tempo aveva aperto un'ottima pizzeria Melbourne e dopo esserci andata la prima volta non ci tornai più perché tornai a casa senza voce, perché anche per parlare con la persona che era a fianco a me dovevo alzare il tono di voce nonostante nessuno stesse gridando all'interno della pizzeria, però l'acustica era tale che, non lo so, è come se il suono che si emetteva venisse assorbito dalle pareti e quindi si dovesse gridare per mantenere un volume di voce normale. Ora, so che ci sono degli ottimi architetti che pensano anche all'acustica degli spazi che creano o che ristrutturano, però diciamo che l'educazione all'acustica che fa venire voglia anche di chiacchierare a bassa voce, di sussurrare, ancora non è molto diffusa. Poi io capisco anche che una persona che lavora in un bar non è che possa mettersi a fare le cose così pianino pianino, appoggio il piattino, la tazzina, anche perché tazzina e il piattino del bar sono fatti apposta per essere resistenti, per poter essere, non dico sbattuti, però appoggiati con meno attenzione di quanto non si farebbe appoggiando il servizio buono di porcellana. Sì, quindi mi rivolgo a tutte le persone che si occupano della creazione degli spazi interni, dei bar e dei ristoranti, riflettete un po' su come si può fare a ridurre l'impatto dell'acustica, o meglio a sfruttare l'acustica, così che la gente possa anche sussurrare e non torni invece a casa come se avesse trascorso un paio d'ore a guardare la sua squadra di serie C perdere l'ultima partita di campionato e quindi che non passa poi in serie B. Comunque qualcosa del genere, avete capito? Riflettiamoci e godiamoci anche una buona acustica che aiuta la conversazione.